Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Un altro incidente lungo l'autostrada A1 con conseguente traffico in Tirte è accaduto questa mattina e questa volta ad essere interessata è l'area senese fino alle porte della Valdichiana nel tratto tra Chiusi e Valdichiana. Nella corsia in direzione Firenze c'è stato questa mattina uno scontro che ha visto coinvolte tre auto e un mezzo pesante. Come nell'incidente di venerdì scorso avvenuto invece nel tratto a Retino, anche in questo caso il camion si è ribaltato sul fianco provocando la chiusura immediata della corsia in direzione nord. Le code si sono formate in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia ha consigliato l'uso della viabilità alternativa. Poco dopo le 11.45 sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Monte Pulciano. E restiamo in Valdichiana perché i carabinieri della Compagnia di Cortona durante il fine settimana appena trascorso hanno messo in campo operazioni mirate al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. di ripercorre per noi Chiara Sadotti. Controlli a tappeto dei carabinieri nel fine settimana lungo le principali arterie della Valdichiana a Retina. 18 militari impegnati nel servizio di controllo del territorio e 9 i veicoli con i colori di istituto scesi in strada. Sono state così identificate in tutto 115 persone, controllati in 98 veicoli, contestate 8 contravenzioni al codice della strada ed infine ritirate 5 patenti per guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. A Cortona i militari del NORM hanno arrestato un uomo sorpreso con quasi 100 grammi di hashish. E' poi scattata la denuncia per altre due persone, un uomo trovato in possesso di una patente di guida contraffatta ed un altro invece al volante in stato di ebrezza alcolica. Le analisi hanno infatti evidenziato un tasso alcolemico molto superiore al consentito. I carabinieri della stazione di Camuci hanno invece ritirato la patente e segnalato un uomo trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish nascosto all'interno del cruscotto. A Castiglion Fiorentino nei guai due giovani sorpresi dai militari con tirapugno, un bastone telescopico e un grammo di hashish. Infine i carabinieri di Mercatale di Cortona hanno denunciato due persone perché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish nascosti all'interno della custodia di una sigaretta elettronica. Adesso parliamo di economia. Il settore orafo fa i conti con i prezzi al grammo dell'oro schizzati alle stelle e con una serie di colpi messi a segno nel territorio che impongono una riflessione sulla sicurezza. Ce ne parla Greta Settimelli. Tra poche settimane la Fiera Internazionale dell'Orificeria sarà ospitata dall'Arezzo Fiere e Congressi esattamente nei primi giorni di maggio. Intanto nella categoria c'è forte preoccupazione per due motivi. Il primo sono gli assalti subiti appunto dalle aziende Orafe e Argentiere, uno degli ultimi pochi giorni fa. E poi il prezzo del metallo prezioso che è salito alle stelle. Allora, Orarezzo sarà a breve e vedremo cosa significa questo balzo del prezzo dell'oro, vedremo cosa significa questa escalation di guerre che invece di ridimensionarsi si sta allargando. e andiamo logicamente alla nostra fiera, alla fiera della nostra città, ci sarà sicuramente tanta gente ma è il momento clou per capire se i mercati continueranno a un trend positivo oppure ci sarà una frenata. Una frenata è già stata data in maniera abbondante dal rialzo del prezzo dell'oro che nell'ultimo mese e mezzo è passato da 50 euro a 70 euro al grammo. ha avuto un balzo incredibile e già gli ordinativi di per sé si sono diminuiti se non quasi fermati. Ed è stato un bilancio positivo quello del mercato delle pulci a Monte San Savino e adesso il progetto si sposta a Castiglion Fiorentino. Intanto un bilancio di questa edizione, chiamiamola di primavera inoltrata a Monte San Savino. Beh è stata decisamente una giornata meravigliosa perché sicuramente il cielo ci ha assistito però direi che Monte San Savino per noi è sempre una garanzia perché è un paese laddove lavoriamo sul concetto di comunità un paese, un borgo come Monte San Savino per noi è una piazza decisamente perfetta per quelli che sono proprio i valori del mercato delle pulci. Come procede questo progetto e a cosa vi state allargando? Ma diciamo che il rapporto con Monte San Savino nasce prima di tutto dal rapporto con la Proloco di Monte San Savino proprio perché nell'ottica dello stare insieme, del dare valore alle cose le realtà come le Proloco in cui ci sono persone che poi fanno volontariato in virtù dell'amore che provano per il loro territorio è stato un tipo di lavoro che ci è piaciuto molto e in realtà ci ha formato anche a noi staff del mercato delle pulci quindi in questo senso riconoscenti verso la Proloco di Monte San Savino andiamo a fare un lavoro adesso con la Proloco di Castiglion Fiorentino dove andremo a portare un altro tipo di progetto. Ci puoi dire qualcosa? Sì, diciamo che lì c'è una piccola fiera storica del paese che è la mostra scambio di cose vecchie usate e semplicemente andiamo a collaborare a una cosa un po' più piccola che è il settore Amarcord del mercato delle pulci quello fatto dagli hobbisti, il piccolo antiquariato e il vintage. Insomma una comunità che abbraccia sempre più realtà? Esatto, ci piace moltissimo la parola comunità noi andiamo a conoscerne di nuove ogni volta e andiamo a integrarci dove possibile. Nedo Baglioni è stato rieletto all'unanimità presidente di Confartigianato Fotografi Toscana l'organizzazione regionale di categoria in seno alla Federazione Comunicazione. Il coordinamento regionale è stato affidato nuovamente a Gigliola Fontani. Eroica, folle, visionaria, storie di medicina visionaria è il titolo del libro della divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli ospite ad Arezzo alla Casa dell'Energia. Vediamo. Racconta la medicina attraverso gli autoesperimenti, cioè le storie di chi ha sperimentato, ha sperimentato su di sé, sul proprio corpo, le proprie idee, le proprie teorie, oppure i propri strumenti nuovi e cose di questo tipo. Un monologo sulla storia della medicina raccontando storie di autoesperimenti e autoesperimentatori dal Seicento sino ai nostri giorni, con eronia e leggerezza, a portarlo in scena ad Arezzo Silvia Bencivelli. Alla Casa dell'Energia sono così tornati gli appuntamenti con Arezzo Science Lab. È veramente un festival che è nato sotto una buona stella, anche da un punto di vista astronomico, nel senso che i nostri eventi sono tutti sold out e hanno riscosso un grande interesse. Del resto, probabilmente, temi così specifici, ma al contempo anche così interessanti, con professori di livello nazionale e internazionale, hanno creato questa attrattiva. Ci siamo introdotti in collaborazione con Science Lab di Arezzo per cercare di fare luce su tutto quello che riguarda lo sviluppo scientifico, le nuove tecnologie e ovviamente noi incarniamo anche spazialmente questo tipo di concetto. Silvia Bencivelli si è laureata in medicina Pisa e in seguito si è perfezionata in comunicazione della scienza alla Sisa di Trieste, voce autorevole della comunicazione e della scienza in Italia. È una delle firme di riferimento del settore ed è attiva con podcast, programmi radiofonici e televisivi. Io ho fatto medicina quasi per dovere familiare e poi ho cercato una scappatoia dal mestiere di medico e l'ho trovata nella comunicazione, però sono passati più di vent'anni, quindi nel frattempo ho sperimentato un sacco di strade all'interno di quelle possibili nella comunicazione e ho scoperto un mestiere divertente, soprattutto un mestiere che uno si fa con le proprie mani e si inventa ogni giorno in maniera diversa. E il tema della salute e della sicurezza sul lavoro sarà al centro della tavola rotonda programmata per giovedì alla Borsa Merci in piazza Risorgimento dalle 9 alle 13 per approfondire il ruolo dell'ente bilaterale del commercio, turismo e servizi nel potenziamento del rappresentante territoriale per i lavoratori. Grazie all'accordo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi e turismo della Toscana per la prima volta sottoscritto all'interno dell'EBCT da Confesercenti, da Filcams CGL, da Ficas CISL e Will Toscana, le aziende potranno utilizzare uno strumento innovativo a vantaggio della semplificazione della maggior tutela dei lavoratori. L'accordo, spiegano i firmatari, permette di rafforzare la sicurezza e la salute dei lavoratori in quanto rappresenta uno strumento capace di far entrare in azienda in modo maggiormente potenziato, semplificato e strutturato il rappresentante territoriale dei lavoratori, uno strumento che facilita le aziende, riduce la burocrazia e aumenta l'efficacia della figura del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori che può essere esterna all'azienda. E adesso torniamo in Valdichiana, andiamo a Cortona dove sono state consegnate le borse di studio dedicate a Danilo Camorri, il servizio. Cerimonia di consegna delle borse di studio Danilo Camorri, un'iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale di Cortona e dedicata alla memoria del fondatore della società Uno Informatica, nell'ottica di sostenere e valorizzare i giovani cortonesi che orientano le loro scelte di formazione in materie attinenti all'ambito di azione dell'azienda. Per noi è un valore sia sentimentale, ovviamente perché il nome che porta la borsa di studio è legato a nostro padre, sia ovviamente professionale perché nel guardare nel lungo periodo ci aspettiamo che le persone che hanno sia partecipato alla borsa di studio, sia vinto, possano nel loro valore poter confluire anche nella nostra impresa. Il bando era dedicato agli studenti universitari iscritti all'ingegneria informatico dell'informazione nonché informatica, matematica e fisica. Penso che i giovani debbano fare qualcosa che effettivamente li motivi nelle scelte della vita, quindi qualsiasi cosa decidono di fare debbano farla al meglio e con il massimo della passione perché questa è la cosa vincente nella vita. A ricevere le borse di studio, gli studenti risultati più meritevoli. Ringrazio anche i fratelli Camorri e l'azienda per appunto anche loro averci dato questa possibilità. Un grande sostegno appunto nel nostro percorso di studi, comunque anche nella nostra cultura, comunque permette di accrescere appunto questo bagaglio culturale, quindi penso che sia anche un incentivo a studiare di più e a studiare meglio. Quando sacrifichi tempo e vieni riconosciuto con dei premi è sempre una cosa positiva, quindi aiuta soprattutto anche per comprare libri e cose che costano tanto perché alle magistrali iniziano a costare veramente tanti libri, quindi un aiuto in più non fa mai male. E nella seduta di oggi del Consiglio Comunale di Cortona si è aperto con il cordoglio dell'Avvocato Nicodemo Settembrini con un minuto di raccoglimento per commemorare il cittadino onorario e presidente della Fondazione, organizzatore di numerose iniziative culturali del premio Pietro Pancrazzi. Riguardo all'ordine del giorno, a seguito dell'indizione dei comizi elettorali, l'Assise ha potuto esaminare solo i punti ritenuti urgenti e indifferibili. Secondo quanto votato dallo stesso Consiglio Comunale, sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione, il punto relativo alla variazione di bilancio per le risorse necessarie, il cofinanziamento per i lavori di antisismica, per la caserma dei vigili del fuoco di Tavarnelle, per gli interventi urgenti dedicati al cimitero di Creti e per il cofinanziamento dell'estensione dell'acquedotto e metanodotto della frazione di Pietraia, per il cofinanziamento del bando GAL Appennino-Aretino, per la riqualificazione dei parchi pubblici di Terontola. Analoga decisione presa anche per le rettifiche richieste della Regione Toscana al piano strutturale intercomunale e per la lottizzazione di Redola. E andiamo a Castiglione-Fiorentino dove entra in funzione l'eco compattatore del Mangia Plastica. L'appuntamento è per giovedì alle 11 presso la struttura della Casa dell'Acqua nel parco di Villa Lovari per la presentazione. L'iniziativa ha lo scopo di contenere la produzione di plastica da parte del cittadino e rientra in un progetto più complessivo che ha visto negli anni scorsi l'apertura delle casine dell'acqua in tutto il territorio comunale. Al conferimento di 500 pezzi di materiale plastico di uso domestico è previsto un credito per l'attingimento di acqua dai fontanelli comunali. E restiamo in Valdichiana, andiamo a Lucignano. Comunicare attraverso l'arte è un'iniziativa che il Comune di Lucignano in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo Marcelli di Fogliano della Chiana ha messo in campo per rendere fruibile a tutti il proprio patrimonio artistico e culturale l'attenzione ai temi dell'accessibilità e dell'inclusione che per favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sociale del Paese ha permesso la redazione di una guida in comunicazione alternativa aumentativa che utilizza un linguaggio semplificato associando ad ogni singola parola un simbolo. L'intento è quello di permettere anche alle persone con bisogni comunicativi complessi e chi ha difficoltà con la comunicazione verbale e orale di avere accesso alle informazioni e a tutte le opportunità di natura culturale. Mercoledì 17 aprile, quindi domani alle 16.30 nella sala Don Marini a Lucignano sarà presentata la guida. E c'è tempo fino a mercoledì 8 maggio compreso per partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura con un contratto a tempo pieno e indeterminato di 9 posti di istruttore di Polizia Municipale ad Arezzo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Arezzo. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Apriamo parlando della vittoria al photo finish per l'Arezzo Calcio Femminile che si aggiudica punti importanti in chiave salvezza. Vediamo. Un calcio di rigore realizzato al novantesimo da Giorgio Amiotto regala tre punti pesantissimi all'Arezzo Calcio Femminile in ottica salvezza. Freedom battuta di misura, ma per le occasioni create le ragazze di Mister Ilaria Leoni avrebbero meritato un vantaggio più largo. La gara è stata disputata a Tavernuzze. Una vittoria importante perché, come sempre ho detto alle ragazze, queste partite valgono sei punti e non tre. Abbiamo raggiunto questa vittoria al photo finish, anche io non so voce, però ci si meritava sinceramente. Abbiamo preso due traversi, due pali, tante occasioni davanti alla porta, quindi credo che sia meritata. Tanti complimenti alle ragazze. Purtroppo il caldo non ha aiutato nessuno delle due squadre, però avevo chiesto alla mia squadra di non avere ablibbi sulla temperatura e non l'hanno avuta perché hanno corso per 96 minuti dando l'anima e quindi rinnovo ulteriormente i complimenti e sono contentissima di loro. Come dice il nostro motto, è lottare sempre e mollare mai. Quindi non dobbiamo mollare finché l'arbitro non fischia, dobbiamo lottare sempre su ogni singolo pallone. Poi è un mio credo, cioè un mio principio, quello di non mollare niente finché l'arbitro non fischia. Quindi, ripeto, grandi prestazioni delle ragazze in merito al loro oggi. Allora, diciamo che un po' me lo sentivo da batterlo. C'erano delle cose in palio e dei sassolini che volevo levare. Quindi sono andata verso il pallone, in quello ho sentito la mister che mi chiamava me e mi diceva vai batterlo. E in quello ho detto ok, ora lo faccio. Poi ovvio ho detto un attimo di paura c'era, insomma, però ero determinata per fare i gol. Questo rigore era molto importante, era molto importante anche fare i tre punti, non come farli, insomma. Però sono molto molto contenta e sono contenta anche del primo gol. Insomma, i rigori li proviamo sempre a fine allenamento. Quindi, insomma, un po' ero preparata, ecco. E anche per l'Under 15 dell'Arezzo c'è stata una bella soddisfazione perché ha vinto il campionato. La soddisfazione di allenatore e dirigenza ai microfoni. Sentiamo. Il segreto è il gruppo. Siamo un gruppo che ci vogliamo bene tutti. Tutti i ragazzi si impegnano al massimo in tutti gli allenamenti e veramente c'è un'unione incredibile. Ricordiamo che noi siamo una matricola di questo campionato. Il primo anno che si fa i professionisti e vincerò il primo anno abbiamo fatto una cosa incredibile. Poi i ragazzi veramente sono un gruppo splendido, un gruppo d'amici che seguono al massimo tutte le nostre indicazioni che si dà allo staff. Quindi è stata una soddisfazione enorme. Più che il risultato, anche l'unione che si è creata fra di noi, che rimarrà per sempre. Assolutamente sì, le famose basi che abbiamo detto sempre si parte da giù e poi fare in modo che la prima squadra abbia un ricambio generazionale continuo. Questo è l'Under 15, quindi fra due anni sarà pronta per la primavera. Ora faremo tutto un percorso con l'Under 16, tutte le nostre squadre faranno del loro meglio per dare ricambi alla prima squadra. Oggi è giusto festeggiare e adesso pensiamo al nazionale. Per noi è stata una gara lunga perché siamo partiti in difficoltà all'inizio con un po' di assestamento, poi il campionato invece si è sviluppato in maniera perfetta. Questi ragazzi hanno fatto veramente una serie di risultati davvero importanti, quindi tutto meritato. La cosa più importante è che abbiamo deciso di fargli un regalo e quindi domani, prima della partita dell'Arezzo, entreranno in campo e andranno a prendere il saluto dei nostri tifosi. Noi l'accogliamo volentieri, vogliamo tutti i tifosi sotto perché questi ragazzi si meritano il massimo del sostegno, il massimo degli applausi perché hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. Quindi domani sera vi si dà tutti appuntamento sotto la curva Minghelli per fare un omaggio a questi ragazzi, sono splendidi. E in questo fine settimana invece per il basket a retino arriva uno stop, il servizio. Esce sconfitta dal parchè di Ghella Rate alla MBC Servizi Arezzo che nonostante un buon inizio subisce la rimonta dei padroni di casa nella seconda parte di gara. Dopo un avvio equilibrato la SBA prende qualche lunghezza di vantaggio e i ragazzi di coccio evangelisti riescono a chiudere il primo quarto avanti 21 a 15. Nel secondo parziale l'inerzia positiva della MBC Servizi prosegue con Arezzo che tocca il più 11 dopo una tripla di zocca. Dopo qualche errore nel secondo quarto, il quintetto a Amaranto va negli spogliatoi sul 43 a 36. Ad inizio terzo quarto, Galla Rate cambia atteggiamento e si riporta rapidamente in linea di galleggiamento. Arezzo commette tanti errori tra palle perse e conclusioni affrettate che ridanno fiducia alla squadra di casa. Già sulla terza sirena, Galla Rate è avanti 63 a 59. Cavalcando questo momento positivo, inizia l'ultimo quarto dove i Lombardi ricacciano indietro i tentativi di rimonta del Lame MBC Servizi. Si entra negli ultimi due minuti di gioco con Galla Rate in vantaggio 74 a 71. Le due giocate vincenti per i padroni di casa sono un gioco da tre punti di Molteni e soprattutto una tripla di Fioravanti che realizza il canestro del K.O. sulla serena dei 24 secondi. La Sba non segna più e così Antonelli Lunetta con un tiro libero fisse il punteggio finale sull'81 a 71 decretando la vittoria dei padroni di casa. Dopo questa sconfitta, Lame MBC Servizi tornerà in campo domenica prossima al Palace Portestra contro Campus Varese per l'ultima giornata di questa stagione, un campionato che ha regalato tante soddisfazioni alla società e alla squadra Maranto capace al suo primo anno in B di conquistare con larghissimo anticipo la permanenza in categoria. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda la trasmissione fattore di ospite della serata Bruna, la centenaria che per 40 anni ha fatto la volontaria alla misericordia di Arezzo. appuntamento quindi dunque alle 21 subito dopo il nostro telegiornale. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.